Allora, popolo di sei sere in cucina, eccoci qua, grigliata mista oggi, funghetti, zucchine, melanzane, un po' di spiedini, salciccia, un po' di alluce di pollo alla diavola e un po' di spiedini, poi abbiamo qua il nostro mio cognato Fulvio, saluta Fulvio, perfetto, qui abbiamo già delle costine in forno che stanno in caldo. Bene, allora oggi grigliata ma non lezione, oggi una bella grigliata in relax. Ciao a tutti, buon appetito da Maurizio Lupi, ciao ciao.